si perchè andar su da qua non è troppo come scendere dagli ostacoli stracinando la moto occhio al legno se vai giù di qua appoggia il davanti ma dopo devi scappar via bravo ok 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 lì c'è un'uscita di dove c'è il sergio c'è chi gira e torna in su qua c'era un'uscita quel pezzettino la possiamo salire minchiarella mi comincio a risentirne cazzo figaro fino in cima è pulita eh fino a quale due metri dopo basta ce la faccio più c'è un'uscita cazzo figaro e lo so quelle che facciamo una volta ci arriviamo da là e uscivi qua vediamo se ci sono ancora le altre non c'è proprio un caesino qua non so mica se è pulita non so mica se è pulita eh Vito non so se è pulita perché di là c'è giù le piante c'è ancora giù le piante ma si passa scendi giù dove c'è spanti e io perché mi ricordo dove era ma se no non la vedi neanche più e ce n'è dentro tre o quattro così cioè devi devi dire qua diretto per forza per fare questo devi dire qua direttamente bravo no ma va secondo me no questo vediamo magari da prossimo giro la giriamo di lì bravo il pietro pietro ah no arrivano qua ce n'è altre cose sono pulite ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevi scendere da qua, poi facevi il giro sotto e passavi su da qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.